I cambiamenti climatici possono avere un impatto sulla nostra salute fisica in diverse maniere. Ad esempio le temperature estreme sia calde che fredde, possono causare problemi di salute come colpi di calore, insufficienza cardiaca, infarto e ipotermia. Inoltre i cambiamenti climatici possono favorire la diffusione di malattie infettive, come la malaria e la febbre dengue, e di allergie respiratorie, come l'asma. Ad esempio, gli eventi meteorologici estremi, come gli uragani o le alluvioni, possono causare stress ed ansia ed aumentare il rischio di disturbi mentali come la depressione e l'ansia. Inoltre, i cambiamenti climatici possono avere un impatto sulla vita quotidiana, come ad esempio alterare le abitudini alimentari e l'accesso all'acqua potabile, e questo può aumentare lo stress e l'ansia. È importante prendere in considerazione gli effetti dei cambiamenti climatici sulla nostra salute, ed adottare misure per proteggere noi stessi e la nostra famiglia, come l'adozione di comportamenti sostenibili per ridurre le emissioni di gas serra, l'adozione di misure di protezione durante gli eventi meteorologici estremi, ed il ricorso ai servizi di supporto mentale se si avvertono sintomi di stress o di ansia.